Sì, in questo caso abbiamo visto già l'ultima notizia di non cambiare l'operazione, che è stato un trasformazione, che è stato inserito con un candidato molto grande tra i doti in quale ritirà, non è proprio un candidato di 90%, che è equivalente a meno o meno di 500, tra i doti. In questo caso abbiamo visto che siamo pronti a deliberare il pacchetto, che è stato un trasformazione, che è stato un trasformazione e che è stato un trasformazione, per aiutare nel processo qui. Ayer ci siamo mandati una carta per Valero, chiedendo per fare parte di negoziazione e per negociare qualche paquete di retiro con il messaggio. E questo ci siamo mandati ayer. E, bene, non è inesperto, non è in contesa di non ancora. Però è molto sicuro che non lo informiamo di che noi cominciamo la negoziazione. Valero mi è, appone, lo che è comprender, un'unica, 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 per me, come finire il anno che sta là. E non ci resta molto tempo, perché noi abbiamo un gruppo grande tra i due e non abbiamo una soluzione per la nostra. E, secondo me, non ci siamo guardando un contesto di Valero e di Saki. Quanti miembri di staff voi stanno rappresentando? Voi stanno calcolando il gruppo di un'unica, 80, gente, ma è crescendo ogni giorno. ma è crescendo, però, per l'altro, ho qui, è caro con una maniera di nomi di un governo quasi 80, trajador, miembro, staff, employees. Buon, ma è crescendo, con il sindicato, ma è interamente, non è possibile, di Valero, e io, io, sta per hourly workers, non? Non c'è un CEO che sta contando per hourly workers e non per staff. Non è possibile, non è possibile, che sta contando naturalmente, è una decisione grande che mi sono ottengo e è importante per non avere assistenza juridica e per se non ci sono . Come il trajador ha avuto notificato che la riferneria è offerta per un transshipmento? Lo che non so comprensato è che non c'è un'e-mail a Bairrond che mi ha assumito per il trado perché non c'è un'occasione pubblicato in prensa che non c'è una notificazione delle decisioni che avevano. E' una sorpresa grande per il trado che non c'è un'occasione. Da che tempo ti faccio a rappresentare il gruppo di trajador? Come il nostro comissi non è una cosa che non c'è un'occasione, non c'è un'occasione e non c'è un'occasione a Valero per risolvere se non c'è un'occasione. Quindi ci sono un'occasione di mei e di anni che non c'è un'occasione. Qui c'è un'occasione non c'è un'occasione di mei? Solutamente, do不到i delle idee che eventualmente sono sempre dieci che all'occasione che ci birthday ha e che non ci aspetti in giù una difesa, ma vend quanto come gli overtime e lui c'è un'occasione obete in una cosa di。 E cosa logra? Non, non lo so. Non si manda carta per Valero, non si manda per un abogato. E non si chiede. E non si chiede. E questo è quello che mi piace di importante, ma non si non lo so. Non si importa la nostra negozia.